Cosa faresti se potessi vivere ancora un'ora e 32 minuti? Paolo conduce una vita tranquilla a Palermo, con moglie e due figli. Ad aggiungere pepe alle sue giornate sono alcuni istanti di pura gioia, come attraversare in motorino un incrocio nel momento esatto in cui tutti i semafori sono rossi. Peccato che arrivi la volta in cui Paolo manca il momento e viene investito, ritrovandosi in cielo allo smistamento delle anime. Francesco Piccolo, assistito da Daniele Lucchetti, attinge a due suoi libricini di successo per costruire una storia leggera e profonda, elegante nella forma e poetica nei contenuti. La storia di Paolo, interpretato da uno stralunato ed efficace pif, non tratta tanto il tema della morte, quanto quello dell'assurdità di vivere, come se non si dovesse morire mai. La struttura narrativa, coerente per tono e misura, dà vita ad una favola ben raccontata e grazie ad una regia agile contenuta in una forma filmica convincente.